Salve amici del Centro Mezzo Italiano, tempo instabile sulla penisola con piogge temporali nei prossimi giorni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 16 novembre. Precipitazioni diffuse al mattino al centro-norde, specie sui settori tirrenici, con temporali anche intensi sulla Liguria e piaciuto al sud salvo locali piogge su Campania e Sardegna. Al pomeriggio fenomeni soprattutto al nord-est e lungo le regioni tirraniche centro-meridionali, schiarite in arrivo al nord-ovest e in serata e nottata piogge sulle regioni del sud, specie su Puglia, Campania e Sicilia e migliora al centro-nord. Temperature minime, massime e stabili, un generale aumento su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che la nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Mezzo Italiano. Grazie 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 Grazie